E' ancora caos traffico nei pressi della rotatoria sulla SS18 realizzata da poche settimane. Nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione comunale della sindaca in primis, non si è provveduto ancora a rimuovere il muro che rende difficile ai residenti accedere ed uscire dall'area. Il tutto nonostante i lavori per la posa dell'asfalto si siano conclusi da giorni. A mancare è la segnaletica, la cui realizzazione è così banale e semplice da chiedersi come mai ci voglia così tanto tempo. La richiesta di residenti ed operatori commerciali è sempre la stessa, apertura immediata della bretella.